Benvenuti ad AC News. Ecco il trailer del film Kick-Ass, subito dopo le notizie di oggi. E' un supereroe. Semplice, amico, perché resterebbe in vita un giorno al massimo. Già. Io non obbligo nessuno a farlo, ma qualcuno potrebbe almeno provarci. I fumetti si sbagliano. Perché chiunque, se vuole, può diventare un supereroe. C'è uno vestito da supereroe che picchia come un matto! E' grandioso! Grazie. Chi sei tu? Sono Kick-Ass. Un eroe mascherato è diventato l'ultimo fenomeno di internet. E' bravo, però. Più che darle, mi sembra che le prenda. C'è qualcuno che conosce l'identità di questo paladino mascherato? Magari uno come lui mi desse una mano. Davvero? Ciao, sono Kick-Ass. Se io fossi Kick-Ass, mi darei al tango argentino. Ma ben presto non fui più l'unico. Kick-Ass ha dimostrato che da solo ce la puoi fare. Kick-Ass! Red Mist! Mi sono fatto male! Andiamo a seppellire il crimine? Poi conobbide gli eroi... ...che facevano sul serio. Parleremo meglio adesso. Ma chi sei tu? Sono Hit-Girl e lui è Big Daddy. Sai cavartela? Ti ammiriamo. Grazie, ma è troppo per me. Dei supereroi hanno ucciso otto dei miei uomini. Manderò alla popolazione un messaggio pubblicitario. Fare il supereroe va male alla salute. Vuoi giocare con me? Mi sono sempre chiesto perché fossi il solo. Sono Kick-Ass, una celebrità. Un supereroe non ha poteri speciali. Di conseguenza... ...non ha alcuna responsabilità. E devo ammettere... ...che è una cosa fantastica. Ma come faccio a trovarvi? Contatta il sindaco. Ha un segnale speciale che brilla nel cielo. E' a forma di cactus. Esce in Italia il primo di aprile Kick-Ass, adattamento cinematografico della graphic novel di Mark Miller e diretto da Matthew Vogue. Dave è un ragazzo normalissimo con una sola passione, i fumetti. Annoiato dalla vita di tutti i giorni, decide improvvisamente di trasformarsi in un supereroe e sconfiggere il crimine. Le cose non andranno a secondi suoi piani, ma troverà comunque dei fedeli alleati pronti a combattere a suo fianco. Mark Waters, regista di commedie come La Rivolta delle Hacks e Mean Girls, sarebbe in trattative per dirigere il divertente Get Back. La pellicola racconta i due caniti fan dei Beatles, che trovano una macchina del tempo e decidono di tornare negli anni 60 per impedire John Lennon di fidanzarsi con Yoko Ono, evitando così lo scioglimento del mitico gruppo di Liverpool. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News.